Dottor X minaccia il mondo, qui ci vuole Action Man. Action Man, il più grande degli eroi. Attento, c'è Dottor X. Ora è Super Ninja, ecco i suoi muscoli in azione. Impugna la spada, Action Man. Action Man, il più grande degli eroi. Stella rotante. Ma Dottor X è un osso duro, ecco una nuova missione. Action Man diventa forze speciali. Dottor X, non hai scampo. Action Man, azione vincente, super equipaggiato. Action Man, il più grande degli eroi.